buongiorno pescatori siamo qui in compagnia con Marco in vacanza di pesca uscita stamattina diciamo a short jiggy complicata fino adesso perché al finale si è venuto fuori un pesce il secondo poteva esserci ma non purtroppo ha sbagliato ha sbagliato l'attacco proprio sotto i piedi e una bella mangiata mia purtroppo io l'ho ferrato vago su plemmino non si è non si è ferrato e adesso proseguiamo un attimino comunque mattinata difficile è tanto mattinata difficile non c'è molta attività che dice ai canari che è tutto facile non è per niente facile ragazzi noi con Marco andiamo avanti a pescare e ci vediamo dopo dai per il finale vediamo se salta fuori ancora qualcosa a dopo a 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 si sta spostando di qua a di là vuol dire che c'è qualcosa non stanno ferme a 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 bravo 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 tu vai tranquillo io adesso ti sbolo il filo lì su il tuo ha mangiato guardalo piano è aspetta no 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 ne vengo io vengo io aspetta eh che devo stare a aspettate fashow portamelo portamelo pontamela di qua portamela di qua di qua di qua di qua sinistra ok sento il filo eh aspetta non lo vedo più aspetta recupero un pelino il mio aspetta aspetta guarda aspetta aspetta piano eh occhio alla risacca adesso aspetta eh occhio alla risacca cazzo con la canna in mano vuoi darmela va? bravo tienimi la canna Nati hai che sono fermo no non tirarmi la su che spatti la canna aspetta che devo vedere vai bella cazzo grande figlia grande cazzo ha mangiato sul marrapp fermo fermo al massimo allora c'è tutto il filo tuo o il filo mio no il filo mio è giù cazzo aspetta aspetta è di qua guarda qua che faccio di qua no devi parlare di qua di qua ma l'altra la faccio io la canna aspetta che devo recuperare il filo guarda di qua perché se no mi ti viene dio boh e non riesco cazzo no e ma guarda è lì il filo il filo è in acqua e dietro lì aspetta 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 un attimo che devo recuperare l'artificiale eeeh fermo eeeh fermo che adesso la risolviamo allora allora il suolo dietro la coda allora contento? la palamita contento? stupenda bella lì un pesce che ha boccato ha intorcigliato la linea si ha portato tutto a destra però dai però alla fine è uscito fuori bella 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 e prima un'altra palamita ha mangiato ma ha sbagliato l'attacco proprio sotto i piedi una mangiata messo blackmino e questa con il max rap vero? max rap da 17 da 17 con lo sardina si bene 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 grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto quasi per mollare il colpo io. Sto quasi per mollare il colpo. Oggi sei in pista con il giga. Eh? Oggi sei in pista con il giga. Volevo cercare un pesce di fondo perché ho detto adesso col sole magari vedo che le pallamite facevano fatica. Ho detto magari qualche pesce di fondo. Però... Come procede Marco? Bene dai, soddisfatto. Allora un pesce preso poi uno ha sbagliato l'attacco sotto i piedi, poi un'altra botta e non si è allamato e poi ancora uno mi sembra no? No, tre colpe, tre colpi, tre colpi in totale e uno io su blackmino che non si è allamato. Esatto. Ah sì dai, soddisfatti a giornata. Un pesce l'abbiamo fatto. Un pesce l'ha fatto questa sera in padella. Esatto. Capotto scongiurato. Capotto scongiurato. E niente ragazzi, giornata difficile, abbiamo provato di tutto, provato di tutto, come, jig, jerk, popper, giornata complicata. Insomma, beh, allora in totale quattro mangiate l'abbiamo vista, mi ha portato a casa nulla. Una bella sotto i piedi che si vedeva bene, anche il pesce. Però su quattro abbiamo portato a casa poco, una. Una. Una volta non vinto i pesce. È andata così. Dai, ragazzi, noi vi salutiamo. Marco, credo si dia di aver divertito. Bella esperienza. È partito subito con un problema che si è rotto l'anello, l'anello della canna. Quindi abbiamo lasciato giù la trave, l'ha pescato con la PAM Showgun, la Stella 4000. Io ho pescato con la Graffin Leader 30-100, la Remoto, 5000 di Mulinello, Marco con la Stella 4000, la Scuola 20-70, ormai setà collaudato. E ragazzi, noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! 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 Grazie a tutti.